Quotidianamente i commercianti di Via Kennedy trovano nei marciapiedi e nelle aiuole ed innanzi i loro negozi rifiuti di ogni genere, dalla carta agli escrementi di animali. Una situazione segnalata alla nostra redazione è dovuto, secondo quanto dichiarato dai commercianti, a una mancanza di pulizia costante di chi di competenza, ma anche un segno di inciviltà e poca cura per la città da parte dei nisseni, che constringe gli stessi, per riportare decoro e non nuocere all'immagine della loro attività, a fare puntualmente le pulizie ed innanzi i loro negozi. Non è un segno di collaborazione, affermano gli stessi, ma solo una forma di difesa per non essere sommersi dalla spazzatura. Ed è veramente ignobile, perché comunque a prescindere l'età e il ruolo che rivestiamo da impiegate private, quello che vedete lo facciamo solo noi. Cerchiamo di abbellire la nostra città e vi pregherei di far notare il nostro bel giardino curatissimo, ma gli incivili ci sono sempre e noi siamo costretti a pulirci, a spazzare, a farci vedere a tutte le ore del giorno. Non è carino, anche perché di cosa vogliamo parlare? Di tares, di tarsu, di spazzatura e di tutto quello, gli addizionali che ci vengono ogni mese e di tratti da cosa? Di cosa stiamo parlando? Non ce ne può più. Noi ogni due giorni puliamo, perché qua purtroppo diventa una schifezza. E anche noi stessi del negozio ci vergogniamo dalla gente che magari deve passare per venire a comprare, perché troviamo l'impossibile. Oggi lo trovate pulito, perché noi ieri abbiamo pulito. Ogni due giorni puliamo e c'è di tutto, sia dentro le aiuole che sotto. Stiamo assistendo ad un degrado culturale per la nostra città, è bruttissimo tutto questo, pagando le tasse e tutto quanto e poi alla fine. Una volta ogni tanto vediamo qualcuno che viene per... ma fanno la cosa essenziale così, cioè non ti vengono a pulire quello che purtroppo l'incività della gente va a creare. Che poi alla fine trovano comunque dei contenitori per posare, buttare le cose, invece no. Io penso che a casa nessuno butta le proprie cose, perché penso che a casa magari si deve tenere pulito, ma fuori è di tutti, l'ambiente si deve rispettare, però purtroppo non viene rispettato. Ed è una cosa secondo me bruttissima. Io penso anche per le altre persone, che non penso che tutte siano così, però la maggioranza magari sarà così. Cioè chi viene, va per comprare qualcosa e dice ma questa città fa schifo, perché poi quello che ne esce è questo, purtroppo.